Oh, ammazzato pure! Il Pullman ha sbagliato strada e questi si prendono a ammazzare e io... In tutto questo il Pullman sta provando a fare inversione di marcia. Il problema è che non è proprio un Pullman piccolino, è un Pullman un po' grandicello, questo. E' un po' grandicello. E' un po' grande, e' un po' grande! E' un po' grande! E' un po' grande! Eh, ma è un po' grande! Io ho capito, però voglio dire, è un motivo per far venire gente. Non lo so, probabilmente il pullman ha sbagliato a strada e sta provando a invertire la marcia. Però ci ha messo un bel po' a fare questa manovra, vedi, fatti applaudissimi, cioè ci sono gli applausi.